Mentre attendiamo il Signore, può capitare che la nostra casa non sia un luogo sempre sicuro. Il maggior di oggi ci parla di questa metafora, di questa parabola, una casa costruita sulla loccia oppure una casa costruita sulla sabbia. Sembra che, come dire, le avversità siano per tutti le stesse. Sì, è la risposta che è differente, è la sorte finale, il destino ultimo che è differente. E così, come per la casa, anche per la nostra vita, il destino ultimo della vita, diciamo, non si valuterà tanto su quello che avremmo saputo portare avanti oppure su quello che avremmo affrontato, ma su quelle che sono state le fondamenta della nostra vita. Aspettare, attendere il Natale del Signore significa anche e soprattutto chiederci quali sono le fondamenta della mia vita, ovvero che cosa mi permette di stare in piedi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.